Intanto devo dire che c'è molta soddisfazione sul fatto che questa partita sia così attesa e sia diventata negli ultimi anni quasi una partita di cartello. Vuol dire che in questi anni abbiamo fatto dei passi in avanti, perché essere grandi passi in avanti con anche risultati importanti. Questo per noi è motivo di soddisfazione, motivo di ulteriore lavoro e stimolo a fare ancora di più. Lo faremo con grande umiltà sapendo che andiamo a sfidare la capolista di questo campionato insieme ad Avellino, una squadra che obiettivamente non ha bisogno di presentazioni e per il blasone della squadra e per il roster infinito di giocatori di altissimo livello. Quindi ci sono tantissimi ingredienti affinché sia una partita stimolante e ricca di motivazioni per tutti. Naturalmente le giocatori, lo staff tecnico, perché comunque credo che sarà e spero che sarà una bella partita di pallacanestro. Parlando tecnicamente, penso che sarà molto importante impattare fisicamente questa partita, perché la taglia fisica di Milano in tutti i suoi componenti, ancora di più adesso con la firma di Kuzmiskas, è una taglia importante e quindi credo che il livello fisico sarà altrettanto alto e dovremo essere molto bravi a non concedere secondi tiri, a non concedere il dominio fisico di questa partita. Per il resto c'è talmente tanto talento in campo che obiettivamente non so individuare un punto debole o una chiave decisiva all'interno di una partita con un roster così e con tanta qualità. Noi abbiamo l'obbligo di proseguire quello che è il nostro cammino, di continuare a lavorare, sapendo che è una partita difficile, però sapendo anche che andiamo a confrontarci con quelli con i migliori e quindi, ripeto, porta dietro tantissime motivazioni, ma non ho una chiave sola o un punto debole particolare che possa essere attaccato in maniera così chiara. Credo che sia invece una sfida da vivere con la voglia di superarsi, con la voglia di, ripeto, di affrontare tanti giocatori e tanti giocatori importanti di altissimo livello.